Ciao a tutti amici di XMHardora.com e ben ritornato ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione le SilSires Siberia 350, un modello che si collocano tra le Siberia 200 e le Siberia 650, o come venivano chiamate precedentemente Elite Prisma. Entrambi questi ultimi due modelli sono già stati recensiti da noi sul nostro sito. Partendo velocemente dalla confezione troviamo le maggiori caratteristiche relative al prodotto, sia nella parte frontale sia nel retro della stessa con ulteriori immagini illustrative. Nel fondo della confezione troviamo invece una sorta di tabella riportanti le specifiche tecniche del prodotto, eccezione fatta per la dimensione dei driver, che comunque se non andiamo errati rimangono da 50 mm. All'interno di questa confezione troveremo semplicemente una minuscola Quick Start Guide, due Seekers con il logo della SilSires ed infine le Siberia 350. Come vediamo il design rimane abbastanza invariato dal precedente modello, la struttura archetto è sempre in plastica, per il modello da noi ricevuto troviamo anche un buon contrasto tra la colorazione bianca, la parte interna nera della headband, l'imbottitura dei padiglioni e la parte esterna dei padiglioni stessi. Dicevamo della headband, una headband sempre di tipo flessibile in modo da permettere di essere le cuffie calzate meglio sulla testa di ogni persona, nella parte esterna troviamo una superficie in similpelle con il logo della SilSires, mentre nella parte interna troviamo un'imbottitura di gomma, però una gomma non come questa dei padiglioni, ma una gomma abbastanza rigida, che comunque non dovrebbe creare nessun tipo di problema, essendo molto simile al precedente modello. Il design della headband è leggermente cambiato con l'adozione di questi due fori clip rotondi presenti all'estremità della stessa. Alzando ai padiglioni esterni troviamo una struttura e design invariata dai precedenti modelli, eccezione fatta per la struttura principale e centrale di questi padiglioni, che è stata dotata del sistema Prisma RGB, e quindi potremo tramite il software di gestione impostare un colore che ci piace, che si abbini perfettamente con la nostra configurazione hardware. Superficie leggermente forata per dare maggior risalto alla retroilluminazione che noi sceglieremo. Nel padiglione di sinistra non solo troviamo un microfono, come sempre, retrattile e completamente flessibile, ma anche la novità che riguarda l'adozione di un tasto per attivare e disattivare il microfono direttamente dal padiglione. È sicuramente una funzione abbastanza carina e interessante per i giocatori. Per quanto riguarda, ovviamente nel padiglione di destra non troviamo nessun'altra caratteristica, il design rimane lo stesso. Per quanto riguarda la flessibilità delle cuffie, sono abbastanza flessibili, seppure la struttura è in plastica, mentre i padiglioni nella parte interna sono caratterizzati da un'imbottitura in gomma e un rivestimento in similpelle, e nella parte interna troviamo questo motivo abbastanza caratteristico. Le cuffie sono dotate di connettore USB, connettore USB flaccato oro, un cavo classico in guaina, un controller sul cavo che ci permetterà soltanto di aumentare o diminuire il volume, in quanto il tasto per attivare e disattivare il microfono risiede sul padiglione. Grazie alla connessione USB di queste cuffie avremo la possibilità di sfruttare un suono su Round 7.1 e essere compatibili con il sistema DTS Headphone X, quindi dovremo avere una qualità sonora decisamente superiore a un qualunque altro headset da gaming di tipo stereo, con ovviamente una scheda audio integrata nella scheda madre. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta delle cuffie sul nostro sito www.eximardure.com Un saluto a tutto lo staff.